Voglio spiegarvi un piccolo segreto, però molto molto importante, un segreto di come evitare i problemi quando si sta parlando e se evitano i problemi, tutti i problemi, specialmente per ragazzi, sia per le uomini che le donne, cambiando il peso. Quando le cose non vanno bene, se c'è uno scontro, basta cambiare il peso. Se cambia, questo può cambiare il peso. E quando l'essere umano può cambiare il peso fino a un diecesimo di un secondo, se la persona è rilassata, un diecesimo secondo è più veloce di qualunque tempo di qualunque musica del tango. Quindi dentro di una battuta addirittura quando le cose non vanno bene, se cambia il peso, e si mette tutto a posto. Ok? Paola, vieni qua e scrivo questa cosa, per farmi vedere. Guardate. Vedi, se lei ha il peso sulla destra, io vengo qua e lei senti qua, questo qua. No? Basta che cambia il peso che si comincia. Ok? So, vedi di nuovo. Lei sente qua che in genere è un momento di panico dove si crea un vortice, se dovrebbe crollare tutte le impostazioni. Ma basta cambiare il peso e si comincia a cambiare. Ok? E questo è che è una cosa che mi servirà a cambiare il peso sia per un uomini che le donne se mette tutto a posto. Que tutto non c'è più bisogno mai e essere di avere la paura di spalleare, perché non si può mai spalleare. Ok? All right, honey. You can turn the thing off. All right.